Ma tu voli va a pizza, a pizza, a pizza, a pummarola in goppa, a pummarola in goppa. Vi è mai capitato di ricevere nel cuore della mattina una telefonata del pizzaiolo di fiducia per chiedervi quale fosse la vostra pizza preferita? Evidentemente no. La singolare iniziativa senza precedenti ad Alfedena è stata ideata a sorpresa dal titolare di un ristorante pizzeria che ha lasciato di stucco diverse famiglie del rione di Piazza Alfedena. Dopo aver assicurato che non si trattasse di una burla di qualche buon tempone o una puntata al tempo del Covid di scherzi a parte, il gestore ha sollecitato le ordinazioni delle pizze premettendo di volerle offrire gratuitamente a tutte le famiglie del piccolo quartiere. L'esercizio, come tutti gli altri, aveva chiuso i battenti dallo scorso 10 marzo per le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di conseguenza il forno è stato inattivo da quel giorno, ma è bastato un attimo per riaccenderlo e tirare fuori una ventina di pizze per tutti i gusti. Osservando scrupolosamente le norme previste dalla legge, le confezioni sono state consegnate ai domicili dei clienti. Un gesto spontaneo e inaspettato, apprezzato da tutti, che non è servito ad annunciare l'apertura immediata dell'attività ristorativa. È stato un garbo verso gli amici di Rione che per una sera hanno così riassaborato le perlipatezze cotte al forno a legna e sognato in ritorno alla normalità.